Meno 6 e l'agonia di questa Juventus è finita. Ben ritrovati amici bianconeri, un saluto dal vostro BJ. Meno 6, mancano 6 giornate alla fine di questo campionato, alla fine di una stagione, ragazzi, che sta finendo sempre più amara. Andremo ad approfondire bene innanzitutto questo Cagliari-Juventus, vedremo la formazione, ragazzi, si sa già, il solito 3-5-2, non azzarda il tridente, non fa giocare il, fermi, ragazzi, non ci accentiamo subito così. Iscrivetevi al canale perché è totalmente gratuito, mancano ormai pochi iscritti e raggiungiamo i 10.000. Vi aspetto, lasciate un like, commentate e attivate la campanellina, così non vi perdrete mai un video, siamo sempre. Live, lesi, 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 madame, messe, e signore e signore, i miei signori, quelli veri e quelli uobi, bianconeri della vecchia signora. Rieccoci qui, un giorno sì, un giorno. Ieri la conferenza stampa di Allegri sicuramente avrà ancora di più, ancora di più, diciamo, fatto il sangue amare a tanti tifosi. Il Dizio e Chiesa hanno lo stesso ruolo. Ma quando mai? Ma quando mai, carissimo Allegri? Questo è un tuo alebi perché non li vuoi schierare insieme. Questo è un tuo alebi perché ormai non ti vuoi dare per vinto. Perché ormai tu lo devi dire solo tu. che la Juve deve giocare con questo penoso 3-5-2. Abbiamo fatto pena nel derby, abbiamo fatto pena col Genova, col Verona, con l'Udinese, con l'Emboli, col Frosinone. Quando dobbiamo ancora continuare a fare pena? E allora, lo posso dire tranquillamente, meno sei finalmente. Meno sei finalmente e ti togli dai piedi. Siamo stufi, Allegri, non tanto perché quest'anno non si vince, lo ripeto. Siamo stufi di essere presi in giro da te. Un allenatore che non va più neanche d'accordo col suo secondo, con l'Anducci. E non lo potete negare perché, ragazzi, io dallo stadio me ne accorgo. Non vanno più d'accordo. Uno ne dice una, uno ne dice l'altro. I giocatori non stanno capendo più niente. Parlare della formazione, ragazzi, è la stessa. Ciesni, Bremer, Gatti, Danilo, esterni, novità. UEA, anziché Kostic, Cambiaso, Locatelli, centrale. Locatelli, in questo centro del centrocampo che non l'hai capito che Locatelli è lì ormai smarrito. E insistiamo, rabbio a me, Kenny, Vlaubic, chiesa. Il tridente non esiste. Il tridente, signori miei, è qualcosa per Allegri. Fantascientifico. Non esiste, esiste solo questo 352 e muore lì. Non vuole azzardare neanche le ultime giornate. Non vuole, addirittura, ieri ha presentato questo Cagliari come il Real Cagliari. Ragazzi, siamo veramente ormai ridotti in basso. È per questo il mio sfogo oggi che ve lo dico. Meno male, mancano sei giornate. Te ne andrai, te ne andrai, non so dove. Forse dicono che lo vuole addirittura il Milan. Vacci, ti baci che Milano è una bella città. Vai lì a Milano, che lì ti amano e ti vogliono. Ma da Torino ormai, ragazzi, è giunta l'ora di salutarlo. Salutare un allenatore che non ha idee. Non ha idee. E questa è la verità, c'è poco da fare. Già lo so che stasera, ragazzi miei, saranno veramente collere, collere. Solo un miracolo ci potrà far vincere questa partita tranquillamente. Ma siamo sicuri che gli stessi undici contro il derby e contro le altre, questa Juve campi qualcosa. Lui non vuole, ormai non vuole osare. Ma butta dentro questo tridente. Perché ti inventi che inizia lo stesso ruolo di chiesa? Dove? Dove le vi? In quale film? Filmi fantascientifico forse le hai visto. Due ruoli completamente diversi. Due ruoli completamente diversi. Due giocatori che non c'entra niente. Non c'entra niente. Non hanno niente in comune. Però Allegri dice, sono uguali, non possono giocare insieme. Meno sei, Allegri. Meno sei e ti togli veramente dei piedi che non ne possiamo più. Con tutto veramente il bene che cerco di volerti ti ho difeso a spada tratta fino a un certo punto. Però anch'io sono stanco. E devo dire che molti Allegriani iniziano a dire, Allegri sì, lo difendo. Ma è giunto il momento che lui se ne vada da questa Juve. Conestamente siamo stanchi e stufi. Diciamo che il derby ha aperto un po' la mente a tutti. Ci siamo resi conto che dare la colpa a Vlauic è troppo diminuitivo. Cioè, ragazzi, dare la colpa a Vlauic è veramente un po' da codardi, lo devo dire. Qui c'è un problema di gioco. Qui c'è un problema proprio di schemi. Qui c'è il problema che c'è un allenatore che non fa più l'allenatore. Fa il diplomatico, fa il politico. Ma lui stesso l'ha detto. Ho sbagliato mestiere. Però lui, se lo dice lui, io onestamente dico hai ragione. Hai ragione. Ragazzi, con questo meno 6 io come devo lasciarvi? Vi lascio dicendovi che ci siamo quasi. Ci siamo quasi, finirà questo scembio. Stasera ci vediamo per il video posti partita. Non farò la live reaction radio cronaca. Mi vedrete dopo la partita. Commenteremo. Speriamo di non essere arrabbiato. Speriamo di avere, come dire, il fegato meno, meno marcio. Ma come sempre ve lo ricordo ogni giorno, vi aspetto poi lunedì dalle 22 in diretta live nel mio canale. Live, diretta, risponderò alle vostre domande. Voi chiedete e BJ risponde solo per voi. Fino alla fine, forza, io vendo sì, io me ne voglio. O sa bene che a tutti i picciotti. Ciao. Meno sei.